Questa è la mia nuova sede dell'associazione, un cantiere, bagno. E questo è l'ufficio alla grancetta. Ecco che sto a fa. Ecco, sto a fa. Cammina i carrelli da soli. Fa la presentazione. Dì, allora, salve. Io sono Nico Pesariesi. Dì, dì. Sì, veramente che è il lavoro che ti dico. Scialano. 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, fantastico. Ciao. Wow. Wow, wow, wow. Say hello, hello. Wow. Yeah. 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 Lunchtime.